La trasformazione di uno dei quattro gruppi della centrale Enel di Cerano da carbone a gas e l'esclusione delle imprese artigianali e industriali brindisine dalla spesa di bonifica affinché questa sia attribuita allo Stato o alle aziende che in passato hanno realmente inquinato. Queste le richieste del presidente della provincia di Brindisi, Ferrarese, al ministro all'ambiente Corrado Clini. I due si sono incontrati a Bari. Il ministro si è detto d'accordo sulla necessità di intervenire per ridurre il carico ambientale della centrale, afferma Ferrarese e per questo chiamerà l'Enel ad un confronto. Con la trasformazione di un gruppo a gas diminuirebbe l'uso del carbone. Cambia così l'atteggiamento e la strategia della provincia di Brindisi nei confronti della società elettrica. Si rompe il dialogo almeno su questo argomento e per il momento Ferrarese si rivolge direttamente al ministro. Non solo, ma il presidente della provincia batte i pugni sulla questione bonifiche chiedendo che le aziende locali siano essonerate dai costi e che questi vengano accollati direttamente allo Stato. La prossima settimana a Roma direttamente al ministero, ma qualcosa tra Ferrarese e l'Enel comincia a cambiare.